Proprio in concomitanza con i festeggiamenti in onore del patrono San Gaetano, la Giunta regionale delibera un finanziamento da 250.000 euro in favore della Chiesa Madre Maria Santissima Annunziata, solo l'ultima delle buone notizie che riguardano Monteparano, piccola comunità nel Tarantino. Con soddisfazione il sindaco Giuseppe Grassi si mette alle spalle il periodo delle difficili condizioni economiche dettate dal dissesto. Una serie di importanti contributi regionali sono in arrivo, insieme all'Ok da parte dello stesso ente, alle diverse richieste di finanziamento avanzate. La Chiesa Matrice, ha detto il sindaco, presenta evidenti necessità di opere di manutenzione straordinaria. Forse serviranno altri fondi, ma importante intanto è stato questo contributo anche grazie all'assessore allo sviluppo economico Borracino. Il primo cittadino annuncia inoltre l'arrivo nelle casse comunali di 2 milioni e 100 mila euro per i lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico Madonna della Camera, sempre dalla regione 10 mila euro per giochi per disabili e 100 mila per il rifacimento dei campi di calcetto, prossimo anche l'acquisto del nuovo scolabus. Grazie